Buonasera, eccoci qua in versione serale, sono le 9.06 minuti grossomodo e cerchiamo di affrontare un discorso mentre la televisione, quella caverna parla di cose inutili che non servono proprio a nulla e che cercano sempre di tenere, come diceva Platone, nella caverna le persone, i cittadini, noi invece cerchiamo di uscire da questa caverna, con me non siete state mai nella caverna, ma è anche vero che non siete mai usciti dalla caverna, non avete tentato di uscire per vedere le stelle, per vedere la luna, per vedere il cielo, per vedere quello che c'era oltre quella caverna, quelle ombre, quelle illusioni, è inutile che mi addentri in questo argomento metafora perché se non avete studiato questa zona di pensiero, perché di pensiero si tratta, perché quando si parla di filosofia si parla di pensiero e non di pagliacciato come si intende alla filosofia dalle nostre parti, la filosofia è la massima espressione di tutto. Immaginate che qualcuno può pensare che sia la matematica, no, sopra la matematica c'è la filosofia, perché se non esistesse la filosofia non ci sarebbe ancora oggi la matematica. È inutile che io vi spieghi questa situazione perché non la capireste mai perché ci vorrebbero milioni e milioni di ore di studi, di ragionamenti, di comparizione, di deduzione, induzione e così via per poter capire di quello che si tratta. Comunque vi spiego che in cima alla piramide del sapere c'è la filosofia. Che vi piaccia o non vi piaccia? La situazione sta così purtroppo. Ripeto, la matematica che è la massima espressione della verità, della realtà e della dimostrazione scientifica, se non c'era la filosofia che sta al di sopra, come l'hanno ammesso tantissimi, tutti i grandi pensatori, non ci sarebbe la matematica. Che vi piaccia? E allora onestamente con me bevo un goccio perché il caldo qua è pazzesco. Certo non è un Belvedese bere così, ma io bevo così anche quando sono nei ristoranti, in qualsiasi parte mi trovi, io bevo così anche quando ero nei villaggi è un mio modo scostumato di fare, indubbiamente. Qualcuno della famiglia mi segue in questo, non mi seguono in tante altre cose, ma a bere così, a canalino come diciamo noi, termine tecnico, mi seguono e molte volte ci sono delle critiche feroci. Vabbè. Allora, mentre la stanno nella caverna e si ripetono le solite cose attraverso le immagini, attraverso le illusioni, le bugie e così via, noi tentiamo di stare fuori dalla caverna e cerchiamo di dirci le cose che veramente sentiamo, vediamo, tocchiamo, l'altra realtà. ed è una quella che io da tempo vorrei parlare, discutere, argomentare, cercare di capire, perché non ho mai capito, è la pubblicità. A cosa serve la pubblicità? La pubblicità è un mezzo molto violento che mira a indottrinare, a pilotare le persone verso mondi che loro non sapevano che esistessero. Mi ripeto, la pubblicità è un metodo che nasce in questa nuova civiltà che si chiama l'ultima arrivata, ma ci sono forme di pubblicità anche da 200 anni, che mira a convincere una mente vuota o una mente normale a fare delle cose o a comprare soprattutto delle cose che da sola questa persona non si sognerebbe neanche di comprare, neanche di immaginare. E perciò questa pubblicità è un mezzo per me criminale che ci fa fare delle cose che non vorremmo fare e ci condiziona la vita in maniera terribile. Qualcuno si metterà a ridere, dice questo parla della pubblicità come se venisse da Marte oppure da Nettuno. No, no, io non vengo né da Marte e neanche da Giove. Io ho sempre guardato questa civiltà che chiamano civiltà che è il modo di vivere sociale e mi sono sempre accorto sin da bambino, soprattutto quando ero bambino che ero molto più sensibile, come tutti i bambini, le puttanate che esistono nella nostra società. Una società che noi ci vantiamo che è la più giusta, la più tollerabile, la più civile. Tutto falso. Noi viviamo una società così insulsa, bugiarda, cattiva, incivile, che un giorno, fra i 100-200 anni, i ragazzi, se ci saranno ancora, se l'umanità ancora esisterà, studieranno con molta attenzione e sicuramente cercheranno di non fare gli errori che stiamo facendo noi nell'essere convinti di vivere una società perfetta o quantomeno evoluta rispetto ad altre zone del mondo. Niente di più falso. Noi viviamo in un'inciviltà totale. Totale. E malgrado ci siano le religioni dietro e tutte queste sette, sempre religiose, siamo dei comuni briganti e senza sensibilità, senza umanità e senza niente. Io da tempo dico a cosa servono più le chiese, non solo le università, le scuole, ma le chiese. A cosa servono? Il Vaticano a cosa serve? Oltre che a nascondere verità e a dire bugie, a cosa serve quel Vaticano? Gesù Cristo amava essere povero, vivere in maniera sobria o sto inventando una favoletta o me la sto inventando questa favoletta? No. Gesù voleva vivere in povertà, col giusto, l'indispensabile e soprattutto in verità. Invece il Vaticano guarda caso che ci sono ricchezze infinite e non si è mai detta una verità. Tutte le bugie le nasconde quel palazzone era. Avete capito? Perciò noi viviamo in una società bugiarda, insensibile, cattiva, che una volta tutte queste cose venivano alla luce attraverso le guerre e si cercava per un periodo di tempo di fare pulizia. E c'erano venti, quindici, trenta anni di pausa e poi magari si ricominciava da cavo. Ma il clima non è diverso. Il fatto che non ci sia la valvola di sfogo che allora era la guerra, oggi è ancora peggio, perché siamo costretti a vivere sempre nella bugia, nell'ipocrisia, nel favoritismo, nella spintarella, nel non essere noi. Perché queste sono tutte cose che un individuo potrebbe raggiungere attraverso l'impegno e le sue capacità innate o interne che ha. Invece no. Una persona preferisce pagare, preferisce farsi raccomandare, farsi spingere, raggiungere obiettivi non con le proprie forze, bensì con l'aiuto altrui. E questa è civiltà. E questa è civiltà. Noi siamo i nuovi barbari, sotto un'altra forma, ma sempre barbari siamo. Tutto qua. E il termometro che ci dice quanto siamo barbari è la pubblicità. Una civiltà è evoluta, una società è evoluta, ha bisogno della pubblicità. Perché uno ti dica con questo dopo barba non avrai più possibilità di sbagliare con le donne, tutte le fighe ti cadranno in ginocchio. Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Oppure quello che una volta con una caramella entrava in una zona dove si giocava a bingo, aspettava i numeri, i suoi numeri non uscivano e quello che stava di dietro li ha prese tutti di fila, i cinque numeri. Dalla contentezza è uscito fuori e gli è arrivata una macchera addosso. Quello che ha perso si è rincuorato, si è consolato. Dici non avrò vinto niente, ma con questa caramella che tengo in bocca riesco a vivere la vita, a mordere la vita. Avete capito? a che punto siamo? Ma poi pubblicità così brutte, bruttissime, soprattutto le pubblicità delle macchine. Non prendiamo quando ci sono le donne e sono sempre in giro nelle pubblicità queste donne, fanno proprio pietà. C'è una società evoluta, ha bisogno della pubblicità. La pubblicità è il termometro della nostra ignoranza e della nostra inciviltà. E ripeto, in una situazione del genere noi siamo i nuovi barbari, altro che civiltà, altro che diversi. Noi siamo i nuovi barbari della terra e fra 100 e 200 anni quando ci studieranno cosa abbiamo lasciato e cosa abbiamo fatto di questi periodi, nuovi ragazzi, capiranno quanto eravamo barbari, incivili e cattivi. Ecco perché viviamo queste situazioni e soprattutto alla base di tutto c'era la cotardia, la vigliaccheria, perché non ci siamo mai spinti a chiedere qualcosa di nostro, i nostri diritti. Non ci siamo mai spinti a protestare perché eravamo barbari, perché ci piaceva vivere in quel modo. Magari non chiamateli barbari, li chiameranno un giorno zingari, perché a noi ci piace vivere come gli zingari, ecco perché non parliamo mai. Noi abbiamo problemi di tutti i tipi, da Roma in giù abbiamo dieci mafie e non ne parla nessuno, abbiamo sopprusi a non finire e non grida nessuno. Alla fine dove si sono messi a gridare per la punturina che dovevano fare del vaccino, là si sono messi a gridare, sono andati in piazza, hanno tirato fuori gli ideali, hanno gridato che loro non volevano essere gli schiavi, ma non solo incivili, non solo barbari, ma soprattutto vigliacchi. Vigliacchi, siamo vigliacchi, questa è la soluzione del problema. Siamo vigliacchi, quando un popolo è vigliacco da quel popolo non uscirà niente di buono, niente completamente. Questa è la fine della nostra situazione. E ripeto, da che cosa ci accorgiamo che siamo un popolo incivile e fallito? Dalla pubblicità. Guardate che pubblicità che ci fanno là, come se fossimo tutti analfabeti, ignoranti, stupidi. Cioè, quando tu mi pubblicizzi una macchina di 40-50 mila euro, ma ti sei reso conto, deficiente, deficiente che mandi quella pubblicità e sprechi pure dei soldi. Quante persone oggi si possono comprare una macchina di 50 mila euro? E ammettendo che qualcuno si mette in testa di comprare quella macchina, tu stai incitando con quel messaggio pubblicitario una persona ad andare a rubare. Perché oggi molte persone, per comprarsi quella macchina di 40-50 mila euro, devono entrare in truffe, rapine, imbrogli e così via. E molti ci entrano. Perché se rendono conto, nella loro stupidità, che se non hanno quella macchina di 40 mila euro, le persone penseranno che stanno morendo di fame. E stanno morendo di fame. Però uno se ne va a rubare, fa una truffa, compra quella macchina di 50-60 mila euro e rientra sul binario. Cerca di essere o di dimostrare di essere una persona valida nella società. non c'è niente da fare. Siamo una società incivile. Siamo i nuovi barbari. Non solo ignoranti, barbari e anche vigliacchi. Ai tempi i barbari almeno avevano l'orgoglio e la voglia di combattere perché alla base c'era un coraggio infinito. Noi invece siamo barbari, ossia zingari e vigliacchi, che è la cosa peggiore. A voi tutti buona serata.